Siamo qui per un altro episodio di Super Quark Tarocco Perché Isola deve sempre ghiacciare tutto vorrei sapere Ci sono 30 gradi fuori, tutto ghiacciato fuori Fa così, prendo, mi c'è ghiacciato il naso Sono bellissimo Io Con questo inizio da Super Quark Volevo dire che Porterò YouTube Poop qui, sul mio canale Run Ciao Autore dei sorrisi